Nelle vostre nuove camerette abbiamo Halloween in casa Ok Ciao, piacere Ho scritto Halloween Non ti sto prendendo il giro, è meglio che te ne vai il prima possibile Ok, va bene Ehi, stai qua, stai qua, Vanessa, gli dico a me Oh, quanta roba Speriamo di trovare quello che sto cercando perché devo fare una sorpresa alle bambine Sì, trovato Bambine, venite Cosa c'è la mamma? Vi ho fatto una sorpresa Tra pochissimi giorni che cosa sarà? Halloween Quattro giorni Esatto, mancava bellissimo E la mamma è andata giù in caverna a cercare tutto l'allestimento che avevamo messo da parte Aspettate, aspettate A me, vi dico la verità, piacerebbe, ditemi se secondo voi è una buona idea, allestire questa parte e quella parte lì Quando entriamo nelle vostre nuove camerette, mettiamo Halloween in casa Ok Va bene? Ok, allora dobbiamo innanzitutto togliere queste cose che ci sono qua sopra, quindi questo quadro Allora Dove lo mettiamo? Mettiamoli in cameretta per adesso Prendiamo tutto qua Ok Ok Benissimo E adesso vediamo un po' che cosa abbiamo trovato Inizio io Allora In questo sacchetto Vai, sediamoci Questi possiamo metterli come base Eh sì, tipo Tipo là sopra Vai Cominciamo Uno qua E poi ci arrivi Vuoi lo saperlo Vai a prenderti un capellino Aspetta, aspetta Vabbè Vedi, Anni, mettilo in mezzo Ah, adesso ci siamo Benissimo Adesso in questo sacchetto bianco c'è l'aragnatela La dovete decidere Un bel pezzo a testa Una ragnatela Piena di 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 pipistrelli Di pipistrelli Di pipistrelli Fate come volete Metti qua No, ognuno fa come vuole Tu hai deciso qua Per bene, mi piace Anche Vanessa l'ha fatto Vedi L'allunghiamo un po' Magari se si può Allora, Vale Dove la stai mettendo? Eh Così? Non lo so Non ti piace? No Vediamo un po' Così Allarghiamola Eh sì, si può allargare Vedi che ci sono anche i ragni dentro Non ci sono solo pipistrelli Sì? Bello così Hai visto? Vediamo cosa stai facendo Guarda, perfetto Ti piace così? Ah sì Così che pende? Sì Sì? Ok, va bene Anastasia, cosa c'è? Sì Il citofono Oh, ma noi avevamo Il citofono fuori che schiacci C'è l'occhio C'è ancora, amore E lo mettiamo qui Esatto Bello Brava Brava, Ani Ok, guarda ferma così Bello Bello E qua devi Madonna, ma cos'è? Madonna, qui c'è un ragno gigante Adesso sta distruggendo totalmente L'aragnatela Ho un'idea Chi mi ha aperto? Facciamo così Guarda Chiudi Guarda Così Va bene Con un po' l'aragnatela Ok? E prendiamo l'altro pezzo Allora, Ani Adesso devi decidere Dove mettere tu invece Questo pezzo Io lo metto Tipo qui Sì Ok, vai Devo attaccare Questo qua Questo qua E anche Un po' qua Ok Vediamo un po' Qua Benissimo Un po' qua Boh, perfetto Mostruosissimo Va bene Abbiamo avanzato anche questo Lo vogliamo mettere sulla porta d'ingresso? Oh, se non ho l'idea Dividiamo un pezzo E mettiamo un po' qua Ok, intendiamo Allora Mettiamo un po' qua E che scendiamo anche un po' di qua Ok Possiamo arrivare Sposa Voglio la sposa Sporrendo la sposa Io voglio mettere tipo di sposa E tu è lo sposo Va bene Aspetta Che carini Sì, delle cose Sì Vuoi anche muoverle le manine Le manine Le ossicina Come vuoi Ecco la mia Ecco la mia Anche io Anche io Faccio così Guarda lei Abbiamo un teschio Abbiamo un teschio nero E un teschio bianco Perché chi uscirà da questa stanza Dovrà vedersela sulla mano Anastasia cosa scegli? Questa Che bella amore Di questa però dobbiamo andare a prendere le mille Allora cambiamo un attimo Brava Prendi i teschi che si giugnano Brava Allora Anastasia ha posizionato le zucchine Che non sono quelle che si mangiano Non sono quelle gli albi Proviamo ad accendere Oh ragazzi Wow Che bello Un vero civitero sembra Mancano i sardini Bellissimo Vale ti piace? No, facciamo ancora così Così è l'interrottenza Sì A te poi mettiamo la cardina Devo metterle fine Speriamo di averle Ok? Sì Ok adesso cosa manca? Ci sono i cerchiacchi e basta Ok Il cerchiacchio lo possiamo avere Io lo metterò su di te Perché è nero Ok Quindi tipo qua Questo Happy Halloween Se prendiamo un pezzettino di scotch Lo attacchiamo alla porta Ok? Io Qua? Sì Esatto Va bene? Sì Allora Ani Mentre tu cerchi di capire Dove possiamo appendere Happy Halloween Io vado giù A cercare le pile Per 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 la lampada di Vanessa D'accordo? Ok Ok Ho messo lo scotch Sì Adesso lo vedo Benissimo Allora Vanessa Io ho tolto la mano Dalla maniglia Perché non mi piaceva Preferisco metterla qua Dovete? Per te No Perché va dalla mia parte Tostiamolo dall'altra parte Perché effettivamente Qua c'è già il ragno che pende E qua invece mettiamo la mano O preferisci appenderlo da qualche altra parte? No No Qua Nel senso Così? Sì Piacere Anastasia Fa senso Ok Allora devo andare a cercare le pile per la tua Che cos'è? La devo portare giù Solo quelle grosse Le spiro Vado a vedere se le trovo Intanto bambine Ascoltatemi Ma ci sono già No Eh ma non va Non va Sono scarso Ah ah Più ah ah Sì Intanto bambine Ascoltatemi Cercate di identificare la parola Perché non è happy Halloween Comunque teniamo solo Halloween C'è G Appunto So che c'è tipo Halloween Ah ho un'idea Noi facciamo la parola Allo Ah ma la parola è tipo Allora Prendiamo le parole Allora Allora Passami l'H La A La A L Vabbè c'è un'altra L O E W Allo E E E E Allo N Allo 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 Ok E adesso mangi Ah Night 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 Cosa vuol dire? Norte Norte Allo Norte 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 Night Halloween No No Night Notte di Halloween Notte di Halloween Notte di Halloween No Tu passami Aspetta Che fanno nella posizione Non mi chiederemo come si sta chiamando Buoniamo Marvellore 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 La conosci sta canzone? No Ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Vanessa e Stasia che facciamo Halloween con la scritta Ah Presentati Il mio colore Buongiorno Anastasia Piacere Passami L Passami la L Passami la O O Passami la C A lui Ah Mi sono suonito perché ho toccato l'aragnatira E pensavo di aver toccato un ragno invece di toccarmi l'aragnatira finita Ok Bimbe son tornata Ho trovato delle pile e speriamo che funzionano Volevo tutto sotto la porta Ok Te lo ricordi? Questo è... Bisognerebbe attaccarlo da qualche parte Allora proviamo a vedere se le pile funzionano Questo lo mettiamo a Vanessa, cioè su questo ripiano Ok La OANI Quindi qual'è la parola Vale? Halloween night Halloween night, bravissime Siete riuscite a indovinare? Oh, ti apri me Beh, notte Halloween in italiano Ciao Hai visto che si è accesa? Benissimo Vale, anche tu hai il tuo domino Ok Wow Wow Mostruosissime Chi è Ani? Ciao 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 Piacere Ho scritto Halloween Oh che figo Ti piace? Sì Mi piace? Sì Bellissimo Hai visto Ani che nella tua cameretta abbiamo messo una cosa in più? Sei contenta? Sì Allora Anastasia e Vanessa andiamo a spegnere tutte le luci e riguardiamo per l'ultima volta Sì 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 Entrerai in questa casa Ha 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 Sto accettando Ok Andiamo a vedere il nostro risultato finale Ok Poi usciamo perché dobbiamo andare al compleanno Anastasia Guarda Della sua compagna di classe Guarda Sei pronta? Mamma mia che atleta Iulina che china abbiamo qui Chi è? Sì 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 Infatti pensavo che era di lei invece non è Sì Sì Qua Si vede una che era qua Sai che ti ha spaventata? Sì Guardate Aspetta 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 Guarda Sì E' una sfera terrificante Si Ma adesso che entra Tu Ecco Ma adesso sei una polla Ragazzi Ale Ale Abbiamo le due danse in legiscare piano Occhio che cadetevi alle scale Guardate ragazzi che atmosfera terrificante che c'è in questa casa Sì Sì Accendete le luci vi devo dire una cosa Cacca Sapete cosa manca in questa atmosfera terrificante? No Non ti piace il mango? Non ti piace il mango? Sì Non ti dico Non ti dico Non ti piace il mango Perché no? No Manco io Stiamo dicendo che in questa atmosfera super terrificante Manchi tu Manchi tu Se fatele grave Perché adesso abbiamo terminato Eh? Adesso abbiamo terminato di fare l'allestimento super bellino Scusa per studiare E adesso voglio dire che tu dovevi studiare 5 pagine No Stavo dicendo una cosa prima E' che adesso tu finisci di studiare Poi intanto dobbiamo uscire per il compleanno della compagnia di Anastasia Scusa mia Esatto Tenta che cadi perché qua ci sono le scape E copriamo qualche dolcetto e finiamo di arrivare Dolcetto Va bene? Dolcetto scherzetto richiusi nel... Scusa Dolcetto scherzetto chiusi nel cassetto nella notte di Halloween V No Allora fammi vedere le pagine che hai da studiare Eh ma non abbiamo sottolineato niente Come mai non avete sottolineato niente? Come so Guardi questo No quale vecchio Ah Ok Quindi devi sottolineare Anni cosa c'è? Chi è? Chi cos'è? Cos'è scritto qua? Anni No allora Ma cosa c'è? Non sono Anastasia Sono Queen e Queen Ma se devi essere Harley Queen? Si sono Harley Queen Oh calma eh con questa mazza eh Mi stai prendendo in giro? No Non ti sto prendendo in giro E' meglio che te ne vai prima possibile Ok va bene Vai Vai Ehi ehi stai qua stai qua ma me se mi dico me Si va bene Andatemi Ok 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 Viva Oh calma eh Viva Ma non lo so prima ci decidi andare via poi adesso bussa o ci sta facendo uno scherzo? no ragazzi io non lo so se ci sta facendo uno scherzo Ani qual è il tuo gusto di estate preferito? aspetta qual è il tuo cibo preferito? ci ho detto qual è il tuo cibo preferito? corpi di umani che schifo ascolta scusa Arlequin aspetta aspetta Arlequin vengo in pace Arlequin ascoltami io vengo in pace non ti voglio fare niente ma se ti piacciono i corpi umani se fai due passi indietro e ti giri c'è una mano insanguinata brava vai 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 mangiala mangiala brava ciao ok stai andando a mangiarsi da male ok vedi aspetta vai fare a me ma è di plastica ha detto è di plastica ok niente ragazzi chiudi 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 se sto dietro di te mi ammazza allora qual è la tua bibita preferita? qual è la tua bibita preferita? la musica mia 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 la musica su di roba tu non mi hai capito la mamma adesso devi aprire non vieni perché questa ci ammazza qual è la tua bibita preferita? Arliiii tu mi sei? mamma mia non ce l'ha potuto fare a noi di fare halloween ecco aspetta ascolta andiamo a tagliare tutto l'allestimento di halloween no no magari io vogliono ho un'idea allora hanno paura dell'aglio ah no qual è il bambino questa è una paura di niente allora vedi c'è una pazza in mano cosa ci fa male profumo in faccia Arli cosa bisogna vuoi uscire? devo andare a fare il pranzo aponna ho sicurata paura del fuoco tira andiamo fuoco la casa così magari lo scopriamo come dici? aspetta 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 allora ascoltate ha detto se usciamo se non uscite da qui aspetta se usciamo non ci ammazza perché ha detto se non uscite da qui vi ammazza ok quindi noi restiamo qui quindi cos'è che ha detto non ho capito ha detto che se non uscite da qui ci ammazza e se uscite non mi fa niente a secondo te io adesso esco da lì è perché tu credi a darle Queen io non ci credo a darle Queen secondo me ci sta prendendo in giro quindi cucciolini ascoltatemi io e Vanessa siamo intrappolate in bagno e non sappiamo che cosa fare dovete scriverci nei commenti assolutamente dateci consigli sì secondo voi qual è il metodo giusto per poter convincere Anastasia Queen Anastasia ci dà una mazzata in testa vogliamo guardi è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papo natale non ci vedo niente di male presto Anastasia corriamo giù non ci vedo